Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Continuiamo la nostra saga di Baldur's Gate 3. Purtroppo ho avuto un problemino, ho perso il salvataggio, quindi il draconico che avevo prima si è trasformato in nano. Come vedete è bellissimo. Per chi non lo sapesse io prediligo per i nani indipendentemente dal gioco o se la razza non va bene per determinate cose. Faccio sì che il personaggio diventi buono per quella classe, non me ne frega niente. Quindi ecco qua che abbiamo rifatto il warlock, però l'abbiamo fatto con il nano. Quindi alcune caratteristiche del nano come ad esempio oscurovisione se non sbaglio che potrebbe servirmi parecchio più avanti nel gioco. Esatto, oscurovisione. E scurovisione superiore. Puoi vedere nell'oscurità fino a 24 metri e puoi vedere nell'oscurità fino a 12 metri. Sono ottimi questi perché mi permettono di utilizzare determinate abilità che poi vi farò vedere. Ho studiato una bella combo che sarà possibile effettuarla a livello 10 o giù di lì. Sono ancora a livello 3 quindi ce n'è di strada da fare. Ora abbiamo appena finito di ammazzare le arpie, le nostre amichette arpie. Dove sono finiti i miei alleati? Penso ci sia successo un leggero bug. Ma voi dove siete finiti? Ma siete ancora qua? Ci state facendo qui? Che roba? Niente, piccolo bug. Abbiamo ucciso le arpie, siamo venuti qua sopra, abbiamo preso quello che c'era nel nido delle arpie. Come vedete c'è un passaggio qua dietro, qua dietro esattamente. Quindi andremo verso il proseguire della nostra missione. Abbiamo salvato un ragazzino qui, quindi andiamo a raccogliere diciamo il nostro bottino, cioè la nostra ricompensa, da coloro che ce lo devono dare. Che fanno il giro d'epifero e ritorna su. Ovviamente ci saranno dei cambiamenti nel party, non voglio tenere questi due, non voglio tenere né Gale né la Ezel, perché ho intenzione di utilizzare un paio di personaggi diversi. Voglio utilizzare la Barbara, che la sbloccheremo tra un po', e vorrei utilizzare qualcun altro al posto di Gale. Siccome lui è un caster, e io sono un caster, che poi diventerò anche sia Warlock che Stregone, quindi sono praticamente un pseudomago, vorrei cambiare in qualcosa di un po' più consistente. Vorrei metterci magari un druido, che può entrare in forma bestiale, e utilizzare gli incantesimi. Cuore Oscuro lo atteniamo, perché comunque è un ottimo personaggio da supporto, e io sarò il DPS, detto fatto, che fa semplicemente tanto danno e nient'altro. Così almeno siamo un po' bilanciati, avremo il Barbaro, che va in mezzo alla bolgia e distrugge tutto, avremo il druido, che può andare in forma di orso, caso la necessità, e può utilizzare gli incantesimi di controllo di gruppo, che è molto importante, in più può essere un leggero supporto anche al party, aiutando con delle benedizioni e delle cure, Braveheart sarà, cioè Cuore Oscuro, sarà dedicata soltanto a supporto e cure, e farà anche un po' da tank, quindi sarà in prima linea. Teoricamente vorrei sdoppiarla in Paladino, ma ora vediamo, o faccio Paladino con lei, oppure faccio anche druido con lei, perché lei ha anche una sottoclasse che le permette di apprendere l'abilità da druido. Vediamo se poi è più effettivo fare quello che non magari una B-class azione. Poi vedremo. La Ezel purtroppo... non so, effettivamente... Lasciate nei commenti che cosa ne pensate, la tengo, oppure prendo la nostra amica Barbaro, che la troviamo un po' più avanti. È un bel dilemma, perché in quel caso potrei trasformare Cuore Oscuro in mezzo druido, mezzo Chierico, togliamo Gale e mettiamo il Barbaro, teniamo la Ezel e poi ci sono io. Saranno 3 DPS però all'interno del party, non so come potrebbe funzionare, sarà un bel po' di danno. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate, che ovviamente cercherò di affrontare la cosa e ragionare su quello che sarebbe meglio fare. Ah, lasciate nei commenti quale secondo voi è il party migliore. Sono curioso. Non so cosa faremo senza di lei. Vabbè, capisco, sono papà di una bambina, so che cosa vuol dire. Spero ci rincontreremo in circostanze migliori. Siamo buoni e gentili. Uh, ci ha dato un bello oggetto. Lucidanzanti, che poi si può dare a Gale, perché effettivamente lucidanzanti a noi non ci fa un piffero. Quando Gale ha bisogno di mangiare, glielo diamo. C'è una tipa che sta guardando sotto la cascata a usaghetto. Ci sono vite in gioco e quei codardi pensano solo ai loro dannati rituali. Vabbè, perché zero danno? Al pupazzo. Salve signorino. Doni, che guarda. Fissa un punto dietro di te, come se per lui fossi invisibile o noioso. Doni, vero? Vorrei vedere la tana del drago. Il bambino nuisce, poi allunga la mano, verso un portello nascosto. E grazie per avermi indicato la porta. Esgrunt. Oh, termina la conversazione. Quindi, si va per di qua. Andiamo a vedere che bei regali ci possono essere, perché abbiamo salvato il ragazzino. Ci ha detto di venire qua. Allora, vediamo se hanno qualcosa di interessante. Oh, guarda che è venuto a farci visita. I miei ragazzi dicono che sei qui da poco. Ma dice che per te te viene. Mi ha riferito che è della brutta situazione che si trovava prima. Eh beh, ti ho salvato un paio di arpi. Ho salvato Arabella dai druidi. Non ho idea di cosa avrebbero fatto quei bastardi. Allora, felice di aver dato una mano. Perché tutte queste truffe, tutti questi imbrogli rischiate grosso, sai? Vabbè, felice di aver dato una mano. Ok, sono ricompasso con la sciarpa perché ho un mal di gola pazzesco. Ho una tosse astronomica. Pensavo potesse servirti qualcosa. Hai della mercanzia in vendita? Perché no? Completata esplorare la spiaggia. Allora, innanzitutto la pergamena di animare morti. Potremmo anche fare Gale un pseudo negromante. Pergamena del sonno. Qui abbiamo anche degli arnesi da scasso. Io quanti ne ho? Ne ho sei. Quindi per il momento sono anche a posto. Elisir della vigilanza. Non puoi essere sorpreso. Concentrazione impareggiabile. Vantaggio di tiri salvezza per non essere affascinato e per mantenere la concentrazione. Inoltre non puoi essere addormentato magicamente. Se bevuto sostituisci gli effetti dell'elisir attivo. Prossimo riposo lungo. Quindi questo dura praticamente fino a un prossimo riposo lungo. Non è male, eh. Devo dire che non è male. Ma ho tanta di quella roba qui che non penso usierò quasi mai. Quindi a meno che sia proprio qualcosa di molto importante. Ottieni uno slot incantesimo a livello 2 extra. Se bevuto sostituisci gli effetti dell'elisir attivo. In carino. Ok. Serve altro. Pensavo potesse servirti qualcosa. In effetti sì. Vendetta. Eccola. Visto cosa non ho fatto. Rabbè le bastardi. Terrorizzare una bambina così. Voglio rubare quello grosso idolo. Ah no ragazzina. Ho un idolo. Che te ne fai? Sai aiutarti a ottenerlo. Ma il mio tempo costa caro. Non intendo immischiarmi. Mi chiamo fuori. Dubito tu abbia il fegato di fare una cosa del genere comunque. Ma il fegato ce l'ho. Più che altro è che non ho voglia di incacchiare tutti i druidi. Prima di completare determinate quest. Perché sennò dopo la ricompensa se ne va a far inchirlo. Perché tutte queste truffe? Tutti questi imbrolli? Perché rubare è sbagliato? Al contrario. Voglio investire nella nuovissima gilda dei ladri della costa della spada. Potrei farlo. Se traete profitto sfruttando un periodo difficile. C'è una parola per quelli come voi. Ma scalzoni. Ehm. Ma quasi quasi. Voglio investire nella vostra. Ho un'idea di quanto costi gestire questo genere di attività. Vieni a trovarmi quando sarai in città. D'accordo? Ti ripagherò e non solo. Ci si vede in giro magari. Ciao. Se non muoio prima. O se tu non mori prima. O se sparisci con i miei soldi. Quindi allora. Io mi ricordo che c'era uno scrigno da qualche parte che si doveva saltare per andarlo a prendere. Forse era qua sopra. Sì. È qua. Ui. Torna su. Torna su. Aiuto. Ok. Vedete quello scrigno là? Ci sono due modi che si possono prendere quello scrigno. E il primo è utilizzare Gale. Se avete l'incantesimo del braccio spettrale potete evocarlo e farvelo tirare in testa. Se invece avete quello del salto semplicemente prendete e vi date il salto e fate un bel saltino dall'altra parte. Vedete che le magie d'utili sono sempre molto molto interessanti. Vedete? C'è la possibilità di avere pergamene di coltello di ghiaccio. Forte. Potrei farlo imparare a Gale. A Gale. Ora non so se effettivamente... Che dilema. Mi tengo il party così com'è o lo modifico? Bella domanda. Perché la storia di Gale mi interessa. La storia di Laezel mi interessa. Di cuore oscuro pure. Eh. Tosta. È veramente tosta. Ah qua signori c'era una mucca strano bue. Praticamente potevo derubarlo. Mi sono sbagliato e l'ho ammazzato. Quindi vi dà un anello. Se vi interessa. Comunque c'è uno short sul canale probabilmente che vi dice dove trovarlo e come prenderlo. Se ammazzarlo o potete anche come vi avevo detto derubare il bue. Non è facile. Ve lo dico subito. Più facile ammazzarlo tra un po'. Allora vediamo nell'inventario se abbiamo da roba da vendere. Dei guanti. Tiro salvezza. Forza più uno. Mi dimentico che se clicco su altri personaggi succede un caos. Per il momento teniamo così. Andiamo a parlare con il nostro amico qua. Devlor. Grazie per aver protetto la bambina. E i droidi sono arrivati a questo punto. Non sono solo i goblin quelli che dobbiamo avere paura. Lasciare il boschetto è l'opzione migliore. Io posso aiutarvi. C'è modo di ritardare il rituale. Cosa volevano fare una bambina solo per averci provato? Effettivamente ha ragione. Perché caga assù di loro. Non ti sbarazzi di lei. È il momento di arginare le perdite e scappare. Vi aiuterò io. Ok allora. Andiamo a vedere cosa si può fare. Quanto saresti disposto a sborsare? Lascia fare a me. Non ho voglia di prendere soldi dalla gente che ha bisogno. Posso essere dissuosa? Ok forse ho una soluzione perché l'avevo visto un'altra partita che ho fatto. Che si poteva fare una cosa con lei. Si poteva trovare una chiave che la metteva un po' in casino. Andiamo a vedere. Oppure basta riportare il druido a casa prima che succeda il caos. Allora innanzitutto voglio provare a vedere se riesco a farlo in un altro modo. L'altra volta ho portato il druido a casa e si è concluso tutto. C'è un po' un casino ma alla fine è andato tutto bene. L'unica pecca che c'è in questo gioco è che ci sono pochi portali. Ok andiamo dentro. Allora proviamo a vedere se qualcuno... Minchia mi hanno visto subito. Proviamo a far così. Una pozione invisibile mi servirebbe forse. Anzi facciamo una cosa. Siccome ti tiene giusto controllo. Qui come vedete c'è un passaggio che vi porta a uno scrigno. Io qua mi nascondo un attimo. E cerco di forzare, di scassinare. Vediamo se ce la faccio. È un 10. Difficoltà non è alto. Non più non ha destrezza quindi dovrei farcela. Una volta aperto vediamo cosa... Biglietto lacerato. Leggiamo. I segni che attraverso questa pagina sembrano più dei graffi che dei tratti di pennino. Caga. Molli della paolude. Albero, vieni da me. Da sola. Holodan. Ok, questo potrebbe essere un bel casino. Leggiamo. La costa di questo libro è fragile a causa dell'uso eccessivo. L'angolo di una pagina è piegato verso l'interno. L'equilibrio è un mito. Ovunque un qualsiasi clan si recchi, la natura è in affanno. L'unità è una finzione. Gli uomini di semplice carne cercano di domare le bestie e di radere al suolo la vegetazione. Noi siamo il tuono, noi siamo la pioggia. Prantumeremo l'umanità e una nuova vita crescerà al suo posto. Interessante e molto bello. Prendi tutto siccome ci potrebbe interessare. Abbiamo addirittura preso un'ispirazione da Gale. Quindi veniamo qui. Ora proviamo a vedere una cosa. Ci abbiamo Rat, ci abbiamo... Non so con chi dovrei parlare. Allora, vediamo una cosa. Andiamo subito al libro delle missioni. Che non mi ricordo più dov'è. Missioni. Allora, trovo una cura. Non mi interessa, missioni principali. All'oscuro pulsione. Trovare la propria identità. Fare ok. Sono un Duergar, quindi sono un essere, diciamo, avvolto dall'oscurità. Posso essere sia cattivo che buono. Quindi con i dialoghi avrò delle opzioni che magari altri personaggi non hanno. Coschetto del droid. Uccidi Kaga. No. Indagare su Kaga. Abbiamo trovato un messaggio indirizzato a Kaga che parlava di un incontro nella palude. Cosa nasconde? Sconfiggere i Goblin. Se vogliamo che i Tifling si dirigano verso Baldur's Gate dovremmo occuparci dei Goblin. Zevlor pensa che qualcuno li stia organizzando. Dovremmo indagare al loro accampamento. Vi dico già da subito che li voglio ammazzare effettivamente tutti. Quindi sarà bello. Salvare il primo druido. Che questo lo troviamo poi nell'accampamento dei Goblin, se non mi sbaglio. Quindi magari andremo a vedere se riusciamo a trovarlo oppure no. Uccidi Kaga. Facciamo senza. I Tifling e druidi sono in una posizione di stallo. Uccidere Kaga potrebbe far pendere l'ago della bilancia. Oppure un macello. Non penso sia molto intelligente uccidere Kaga in questo momento. Quindi cerchiamo di trovare alternative all'opzione. No, non ho ancora. Sai dov'è diretto Alsin? No, non ho ancora. Perfetto. Tu non mi aiuti in niente. Quindi veniamo qua. Parliamo con Rat. Poi abbiamo anche Marco Rill e Loic. Senti essere più utile. Ma per ora il mio compito è tenere d'occhio Kaga. Perfetto. Spero di rivedere presto sia te che Alsin. Ma ok. Anche se vabbè. Ho delle informazioni utili. Ma allora. Prendiamo lei. Sta parlando. Termina la conversazione. E prendiamo lui, il mio personaggio. E andiamo a parlare con Kaga. Perché sei qui? Dovresti essere da Zevlar. Mi manda Zevlar. La sua gente non sopravvivrà là fuori. Zevlar pensa che dovresti rinunciare al potere. E io sono qui per assicurarmi che tu lo faccia. Mmm. Potrebbe trovare la morte sulla strada. Lo troveranno di certo se rimangono. A me sembra una scelta semplice. Perfetto. Sei molto giusta. Termina la conversazione. Quindi non è con lei che dobbiamo parlare. Allora. L'albero nella palude. L'albero nella palude. Proviamo a vedere una cosa. L'albero nella palude. Eeeh. Mappa di gioco. Riesco a vedere. Campamento. Ho sbagliato. Ho sbagliato di... Non dir poco. Non era quello che avevo. Terre selvagge. Rovine. L'interno del boschetto di smeraldo. Ho sbagliato. Lì c'è il portale. Ho sbagliato la guerre ande. Ecco. Allora. Tutti assieme. Felici e contenti. E andiamo. L'interno del boschetto. Tanto dobbiamo fare un sacco di roba fuori di qui. Quindi. Quindi prendi questa gente. La unisci. Andiamo. Qui noi se non mi sbaglio abbiamo preso tutto. Abbiamo trovato anche dei guanti carini da uno di loro. E ora possiamo andare. Allora state molto attenti perché come vedete qua c'è un muretto ma si può saltare dall'altra parte. Dovete stare molto attenti a queste cose qui. Perché vi sbloccano magari delle cose o dei posti che magari non ci riuscireste ad arrivare in altri modi. Infatti dovrei riuscire a trovare un amuletto molto interessante che ci dovrebbe essere anche nel short. Che ci permette di dare un'abilità passiva a un nostro alleato che ci permetterà di avere dell'aiuto da lui mentre facciamo dei tiri. Se avete Braveheart all'interno del party non dovrebbe servirvi ma nel caso magari quell'abilità con lei non ce l'avete. Adesso vi farò vedere qual è. È interessante averlo. Chi cacchio è? Ah ma stavolta l'ho trovato qua. Nelle altre run l'ho trovato da tutt'altra parte. Difficile dirlo. Ora che il tuo viaggio è appena iniziato. Cosa sarebbe dato l'occasione? La parola di una? Dilla strocca forse? Curbo come una volpe. Il topo battè il gatto e sorrise tutto. Poi calarono gli artigli e questo amore fu quanto. Bene. Nel comir sì che sono capaci di scrivere. Non è così? Piacere piacere io sono Raphael. Decisamente al tuo servizio. Non capita tutti i giorni di incontrare un peccatore non curante come te. È un vero sanguinoso piacere. Ah i due Ergar sono molto molto cattivi. Ammazzano la gente a vista. Oh conosci il mio lavoro. Piacere mio sono Viking il dominatore. Con chi sto parlando? Il gatto e il topo. Belle parole. Se hai intenzione di minacciarmi non nasconderlo. Esci dal mio accampamento finché hai ancora le gambe per farlo del mio accampamento. Quindi può essere che la troviamo anche nell'accampamento. Conosci il mio lavoro? Sono un grande ammiratore delle arti sanguinose. Anche se non sono nato sotto una luna omicida come te. Bene. Che ne dici di ritirarci? Abbiamo molto di cui discutere per la soddisfazione di entrambi. Questo pittoresco scenario decisamente troppo in mezzo al nulla per i miei gusti. Vieni con me. Bene. Pensavo se fosse bloccato. Bel posto. Uh cibo. Nel mezzo di qualcosa. Complimenti per l'arredamento. Puoi essere un po' più specifico? Riportami indietro immediatamente. Complimenti per l'arredamento. In luogo dove gli stanchi vengono a riposare gli affamati a nutrirsi. Banchettando sontuosamente. Vai serviti pure. Goditi lo spuntino. Dopo tutto potrebbe essere l'ultimo simpatico. Cosa te lo fa pensare? Mi sto stancando dei tuoi giochietti. Capisco. Perfetto. Ti sei rivelato per il demone che sei. Beh è un tifling. Non ho ben capito. Cosa c'è di meglio di un... Ah no. Un diavolo. Che non conosci. Un diavolo che conosci. Ah proprio. Sono un amico. Possibile. Un avversario. Concepibile. Un salvatore. Questo è certo. Certo. Cosa ti fa credere che abbia bisogno di un salvatore? Ma dai. Perché fare il difficile quando hai un girino che ti... Ah vedi. Scorrazione della testa. Un cranio. Due inquilini. E nessuna soluzione vista. Potrei risolvere tutto così. Farei qualsiasi cosa. Devo pensarci su. Sei un folle. Se credi che. Stringerò un patto con un diavolo. Ne ho già uno. Quindi ho un patto con un altro padrone. Non potrei fare comunque un altro tipo di patto. Mi approvano. Addirittura un laser mi approva. E non è forse follia. In ogni caso puoi sempre cambiare idea. Finché le idee saranno ancora tue almeno. Cerca una cura. Assumi qualche sostanza. Studia. Implora. Ruba. Tenta tutte le possibilità finché non te ne resta più alcuna. Quando la disperazione avrà consumato la tua speranza fino al midollo. Allora verrai a bussare la mia porta. La speranza. Ah ah ah. Che presa in giro. Ma vai a... E se volessi stringere questo patto sarò io a ridere per ultimo. Mi sono sempre chiesto che suono facessi il mind flayer quando ridono. Tutti quei sintomi simpatici. Quarci della pelle. Delle sciolte. Non si sono ancora manifestate. Non è così? Qualcosa potrebbe dire che sei l'incarnazione stessa della fortuna. Starò lì quando la finirai. Simpaticone. È proprio un simpaticone. Quindi una bella cassettina qua da prendere. Tutto loot. Tutto loot va bene. Tutto vendere. Ne ho raccogliere ogni cosa. Anche coda di cinghiale e culo di camelo. Un bello scheletro. Eccolo qua signori. Questo ciondolo vi dà guida a qualsiasi personaggio o alleati che avete nel party. Quindi se non avete guida disponibile tra i personaggi che avete. Dategli questa collana così potete prendere qualcos'altro al suo posto. Ah ah. A quanto sembra c'è qualcosa di carino. Non si ha ricoperto di uno sciame. Chitinoso di ragni. Dell'orlo fa capolino una moneta d'oro scintillante. Magari c'è solo quella. Esamina. C'ho la natura. Dieci comunque. A momenti lo canno. Gelosamente il borsello. Non hai dubbi. All'interno si cela un uovo di ragno. Wow. Rapidità di mano dai. Anche se non sono mica tanto rapido. Oddio. Falimento critico. Non sono per niente. Cioè. Cado in poche parole. Cerco di prenderlo e mi ci butto di faccia. La vacca. Che botta. Si riprova. Dai. Dai dai. Aha. Quindi vengono fuori i ragni se canni troppo. Non lo sapevo. Simpatico. E. Pliu. E via. Perché se no ti becchi tre sberle. Ole. Pensavo che se saltassi. M'ero dimenticato che ti potevano colpire ugualmente. Dai ne ho beccato solo uno per il momento. Dai una bella martellata in del cranio. E' andato. Gale. Allora. Gale. Vediamo quanto fai di danno con questa. Solo tre. Vai poi schifo. Lei signorina ce l'ha davanti quindi. No. Meglio non sparare frecce. Colpiscilo direttamente con l'arma. Querpo a querpo. Diciamo che fai il giro così. Vieni qua e lo colpisci. A posto. Non volevo sprecare un danno così alto contro un mostro che ormai è andato. E. Pliu. Come fallimento critico. Che bello. E martellata. A posto. Il borsellino poi alla fine. L'abbiamo preso. No. Adesso riuscirò a prendere lo sto cacchio di borsellino. Il coperto di una... Prendi la sacca. Ormai sono martiragni. Ne valsa di più la pena ammazzarli piuttosto di... Bene. Ora la sacca la possiamo buttare via. Allora vendiamo dopo. Uh. C'è un barile. Uh. Che bella roba. Eeeh. Allora. Potrei leggere i pensieri di alcune creature mentre parli con loro. Buono questo. Neutralizza gli effetti di tutti i veleni. Ottimo. È una pozione di cura. Questa è buonissima accidenti. Magari sei lì che devi fare qualcosa di interessante. Ce l'hai da usi. Ma scusami. Come è impossibile. C'è la scala. Allora. Io non ho mai guardato intorno se c'era qualcosa di interessante. Non c'è un cacchio. C'è assolutamente nulla. Perfetto. Andiamo via. Che qua no. Andiamo via. Si salta giù. Meno male. Pensavo di rompermi una gamba. Ui. Porta di pietra. Abbiamo scoperto una porta di pietra. Ora ho sbloccato anche una ricetta. Allora signori. Diamo un'occhiatella prima di procedere. C'è una statua con gli occhi rossi. Eeeh. Runa dell'aquila. Non può raggiungere la destinazione. Aha. Occhi che luccicano. Un vero e proprio insulto. Il totem è una trappola. Perfetto. Qui vedo un sigillo. Io provo ad andare. Vediamo se mi spara. Salvo. No. Ok. Proviamo a passare. Mi spara l'ali brutto. Invece no. Ok. Si è spenta. Ottimo. Ce n'è un altro qua giù. Dell'orso. Che è questo. Poi ce n'è un altro qua. Che non so di cosa sia. Forse è del lupo. C'è un altro orso qua. C'è un'altra aquila qua anche. Quindi se non disattivavo tutti e tre. Almeno tutti e due. Non potevo venire qua. Allora. Telazel. Vieni qua. Magone. Vieni qua. Brevehort. Arret. Vieni qua. Tu stai un po' più indietro. Che così se siamo fortunati non ti beccano. Oscuro Visione è qualcosa di fenomenale. Perché si vede tutto proprio. Allora. Telazel. E adesso quanti sono? Tre. Quattro. Sai cosa provo? La tiro giù. Quella lì. Mi faccio un bello spintone. E via. Più. Ha funzionato. Ha fatto un bel volo. Qui c'è un'arciere. Quindi. Il primo ad essere attaccato è lei. Adesso aspetta però. Brevehort. Vieni qui. E facciamo che. Mi fai questo incantesimo qua su di lei. Così entra anche lei in combattimento. Ora andiamo da Gale. A vengere away. Allora. Cerchiamo di ammazzare quella tipina là in fondo. Quindi. Proviamo ad usare un incantesimo. Faccio abbastanza da occio. Perché devi venire da lì? Devi fare tutto quel giro là. Se non l'ammazzi sei morto. No. Uno di danno. Fatto uno col dado di danno. Sono al meglio. Bene vieni qua. E ci facciamo un blast in the ice. Là. Minchia. Quattro attacchi per ammazzarne uno. Ok. Tocca Breveharto. Che viene verso di qua. E si tira fuori la spada. Ma se hai ancora del movimento. Perché non farlo? Giusto? A posto. Vieni vieni Tato. Ah è vero sono sorpresi. Allora. Potrei curarlo. Però ho paura che se lo curo. Poi questi tre vanno su di lui. Breveh vieni qua. Tocca a me. Io mi sposto leggermente più a destra. Tocca Gale. Fallimento critico. Ha. Ora facciamo una bella cosa. Un bel saltino. Qui davanti a lui. Là. E un bel colpo. Nella testa. Blam. E uno. È andato. C'è questo qua che è ancora lì. E... Facciamo che ti metti qua in mezzo. A posto. Spaventato. Perfetto. Tenei 15. Tenei 5. Voglio fare un bel blast su di te. Magari ti faccio fuori. Direi di no. Niente. Lei invece può fare una bella cura su di lei. Perché è messa malissimo. O se no aspetta. C'è un trucchetto che ho imparato. Che si può lanciare una pozione. Per aiutare un alleato. Fai così. E lui prende la pozione. Bello ne? E quindi gli do uno scudo di fede. Perché mi costa solo un'azione. E no. Uno slot anche. Quindi no. Niente. Per il momento non si può fare molto. E il salvaci tu. 1, 2 e 3. Ok. Uno è morto. Tocca l'altro. Intanto vieni giù. Che così dopo Braveheart si può muovere. Se nel caso c'è bisogno. Tocca il tipo morto. Meno 42. 42% è anche uno svantaggio. Madonna. Allora. Manno magica. Questo è interessante. E niente. Proviamo a colpirlo normalmente. E' andata anche bene. Ok signori. Unitevi. Saccheggiamo tutto. Entriamo sempre in oscurazione. O comunque in nascondersi. Così si può andare poi a vedere. Quasi quasi derubo questo. Uh cos'hai di bello. Chiave degli antichi. Questo diodema dai rami semi fossilizzati. E' stato tramandato da generazione in generazione di druidi. fabbricato ai tempi della fondazione del boschetto è legato in eterno alle terre che lo circondano. E i minuscoli rubini in esso incastonati comunicano con le pietre e le sue strutture obbligandole a obbedire agli ordini di chi lo indossa. Cosa intende con questo? Eee niente. Facciamo un bel ruba. Come ho fallito. Davvero. Fallimeno. Oh là. Successo. Ora possiamo curarlo. Prendiamo una bella pozione. Dov'è? Ora vai su. Eee lancio. Prendiamo una pozione e la tiriamo addosso. E l'abbiamo curato. Pensavo che sarei morto qui sotto. Come hanno fatto questi goblin a sgattaiolare nel boschetto? Pensavo di averli disseminati ma mi hanno seguito fino nel tunnel. Bravo. Devo dire agli altri cosa è successo. Attento a dove metti i piedi. Queste gallerie sono molto pericolose. Ok. Ma una domanda. Quindi se io indossassi questo. Loro non mi sparano. Chiave degli antichi. Proviamo. Proviamo. Ok. Lui non riesce a saltare. Quindi questo lo diamo all'Ezel. Che lo indossa. E ora la usiamo. Perché lei sicuramente ci arriva. Ovvio. Questione di forza. Ok. No. Mi sparano ugualmente. Quindi nasconditi. Posso sbloccare il coso senza che mi spari? A quanto sembra sì. Ok. Quindi appena ci vede ci spara. Quindi stai giù. Mi raccomando che bisogna sbloccare anche la runa del lupo. Lo so che è una trappola. Mi ha sparato su due minuti fa. Si blocca. Perfetto. Ora si prende la chiave bruciacchiata. Forse questa chiave ci apre il baule che c'è lì sopra. Posso andare in piedi adesso? Sembra di sì. Ok. Prendiamo il nostro amico. Veniamo qua. Ma giusto. Mi dimentico sempre di evocare il mio imp. Pungiglione. Diventa invisibile e può usare pungiglione. Allora. Ok. Quindi la chiave serviva a questo. Perfetto. Cosa abbiamo trovato? Acchiappa mosche. Se il bersaglio non è un vegetale o una bestia. Potrebbe essere intrappolato sull'umano principale. Interessante sto bastone. Sai che ti dico? Te per caso hai la specializzazione con questo? Sì. Puoi usarlo. Tienilo. Meglio del pugnale. Perché comunque se qualcuno si avvicina troppo possiamo fargli comunque caduta. Almeno lo mettiamo prano per un turno. E si rigenera grazie a un riposo breve. Io tra l'altro ti riposi bene i vigni ho finiti tutti. Ok. Andiamo un attimo a vedere. Usciamo da dove siamo entrati. Tanto penso che dall'altra parte andiamo a finire dal boschetto. Allora. La roba da raccogliere. Una borsa. C'è il naso che fischia. Non so se riuscite a sentirlo. Scudo di legno grezzo. Ovviamente me lo prendo. Qui si vende tutto. Anche la roba più inutile va venduta. Ricordatevi che tutto può essere venduto. E questi ingredienti di alchimia potete creare delle gran belle pozioni. Vi farò un video spiegandovi un po' come funziona la meccanica. Anche della forge non è così semplice. Quindi vi faccio un video sia per le pozioni che per la forge. Non credo che sia conoscente. Riesci a sentirci. Tu? Non un altro passo. Uno strano simbolo marchio. Ah. Che figo. Qualcosa dentro di te freme in risposta. Medicina. Le sue ferite sembrano profonde. Potrei essere in grado di aiutarlo. Fermati e alza le mani mostrando il palmo. I palmi. Cos'è accaduto il vostro amico? Un orso gufo. Contro a te sei al servizio dell'accampamento. Che? Aspettate. Quando l'uomo è ferito incrociando il sguardo qualcosa di ormai familiare si concentra. Tenta di escluderlo dalla tua mente. Sostieni il suo sguardo. Fa un passo indietro. Escludere il suo lavoro. I vostri menti si connettono. Vedi i suoi fratelli. Hendrick. E' un nuovo reclute. Che ora lo dirai tu. Proteggeli. Lui è un'anima pura. Ascoltatelo. Lui vivi. Tu sei un'anima pura. Edwin. Nostro fratello. Era stato scelto come te. Hai degli ordini per noi. Facevamo rapporto a Edwin. Vi sbagliate. Non sono un'anima pure. Anima pura. Ditemi ciò che sapete dell'assoluta. Forse potete aiutarmi. Sto cercando il druido Helsing. Non conosco nessuno come è bello. Cosa ci fate qui fuori? È un posto pericoloso. Il vostro compito è trovare la bestia. Che ha fatto questo. E vendicare il vostro fratello. Scordatevi dell'orso gufo. Siete ancora vivi. Andate via. Anima pura. Ditemi ciò che sapete dell'assoluta. Vuoi metterci alla prova? Sì, sì. Farà brandelli. Il vecchio mondo. E lo sostituirà con un nuovo. E allora saremo noi ad avere il potere. Beh, principalmente voi anime pure. È chiaro. Ogni anima pura come te. È stata scelta dall'assoluta. Parli con la sua voce. E quando sarà il momento. Voi anime pure. Governerete il mondo. Una nuova seducente divinità. Che crede possibile. Una cosa bene. Vedo che sei molto d'accordo. Cuore oscuro. Lo sei sciatto. Novizia. La tua comprensione dei dogmi. È ancora approssimativa. Ci sta. Anima pura. Ho solo ripetuto quello che pensavo di aver capito. Sembra che l'assoluta abbia ancora molto da insegnarmi. Siete ancora vivi. Andate via. Abbandonare così. Credo. Credo che vorrebbe vederci voltare pagina. Trovare un modo per arrivare. E l'assoluta ci guidi. Sì, sì. In fondo a destra. Via dalle balle. Vediamo Edwin. Che cosa ci propone. Lo strano poter arrivare da quel cadavere ti chiama a sé. I cadavere ti sono sempre sembrati dei giocattoli. Qualcosa con cui delettarti. Io sono una persona molto strana. C'è un amico che ti chiama dal suo interno. E che ha disperatamente bisogno di essere liberato. Perché lasciare che i ricordi dell'ospite vadano sprecati. E il girino ha assorbito tutto. La sua esperienza potrebbe nutrirti, rafforzarti. Accogli il desiderio di entrare in comunione con il girino. Spingilo a liberarsi. Lasciati guidare dalla curiosità. Libera il girino. Proviamo. Lui. Oddio che brutto. Bene, me lo sono messo nel cu... Eh, ma lui entra dall'occhio e non da dietro. Eh. Vediamo cosa... Hai tante salsicce, signore. Perché hai tante salsicce? Edwin, biricone. Tante salsicce. Allora, innanzitutto salva. Uh, c'è una bella grotta. Della erba. Degli stivali. Ricetta sbloccata. Sublimato di erba fatua. Fatua. Interessante. Possiamo anche utilizzare le erbe. Vedete, anche nei giochi ci sono le erbe da utilizzare. Scudo di legno grezzo. Bella donna. Non è una bella donna, ma va bene. Qui c'è il ponte che si può andare di sopra. C'è tanto sangue. Però intanto vediamo cosa c'è nella grotta. Vediamo cosa ci riserva. Qui ci sono delle orme, a quanto vedo. Ma si vedono proprio bene le orme. Accidente. Ci sentono anche le mosche. Eh, c'è un cadavere. Oh, uno scheletro. Eh, deve trovarsi qui vicino. Ah, ok, l'orso gif. Quindi questa dovrebbe essere la tante dell'orso gif. Andiamo a vedere l'orso gufo, signori. Vediamo se c'è qualcosa da derubare. C'è un piccone. Doveva essere utile. C'è un goblin sventrato. Oh, era bestia. C'è una pietra pesante. Non so cosa fare, ma la raccogliamo. Tutto si può vendere, vi ricordo. C'è uno scheletro. Possiamo prendergli la testa e un femore. A caso. Eh, scendiamo. Cosa troviamo qui? Laggiù ci sia un altare di Selunia. Allora, abbiamo una pergamena. Una pozione. Pozione di guarigione. È un racconto della guerra che non ci racconta niente. Forse... Au! Ok, mi ero dimenticato che faceva questo. Forse mi sono ricordato cosa devo fare. Eh... Bravo. Proprio questo che stavo cercando. Quindi, cogli. Veniamo qua. Se lo devo far leggere alla Braveheart. Braveheart. Quindi, dov'è questo? Acquare oscuro. Vedi, lei lo capisce immediatamente. Se non mi sbaglio, bisogna prendere questa lettera e leggerla. Eh... Eh... Precchiere un simbolo. Forse è più di una... Forse lo devo far leggere a Gale. Perché lei, ovviamente, ha dei problemi con tutto ciò che non è della sua religione. Ok. Gale è riuscito a leggerlo. Quindi si è sbloccato questo. E possiamo doversi lasciarle lì a magari distruggere. Se è possibile. Braveheart. Mi dai sempre dei problemi. Non essere ridicolo. Potrebbe esserci qualcosa di utile qui. Questa spazzatura è un'offerta a Selun. Nel migliore dei casi non vale niente. Nel peggiore, chi lo sa, potrebbe essere maledetto. Non prendere alla leggera della strega della luna. Poi sui... Oh... Eh... Perché ti importa così tanto? Scassaballe. Eh, vabbè. Ho sbagliato. Tiro. Dai. Tira di nuovo. Ale! Lo rifacciamo. Basta. Continua. Persuasione. Non puoi intimidire. Farò quello che voglio. Se vuoi provare a fermarmi, accomodati. Saggezza. Intimidire. Persuasione. Proviamo a fare persuasione. Oh, dovevo farlo fin dall'inizio. Ho sprecato due punti per niente. Magari potrai venderle per una manciata di oro. Ovviamente. E a lei fa male la mano. Allora, danza con torta. Mentre possiede il 50% o meno dei due punti ferita, non provochi attacchi di opportunità. Ma scherzi. È fortissima. Poi c'è un idolo di Selune. C'è un'eliotropia. C'è una collana d'argento. E un rituale seluniano. Selunità. Ah, si chiama. Leggi. Questo tomo descrive gli antichi riti di inziazione osservati da alcuni dei seguaci della Dea della Luna. Selune. Quando un giovane raggiunge la maggiore età, viene lasciato da solo nella zona più selvagge, gli deve dimostrare le proprie abilità di orientamento e sopravvivenza, nonché alla sua determinazione a voler tornare al bagliore argente o della Vergine della Luna. Una volta ritrovata la strada di casa, la sua fede e la sua dichiarazione di Selunità saranno al di là di ogni dubbio. Beh, insomma, raccogli tutto e vi andare. Un'altra pietra. Oh, cacca. Calve. Passi possè impesanti. Squassano il pavimento pietroso. Ma dosca sia grosso. Ha cinque dita. Eeeh, addestrare animali. Sopravvivenza. Intrattenere. Cunfi il petto e rugisce. Squarcia gola. Oddio, me ne pentirò tantissimo. Proviamo, ti prego, proviamo. Oddio. Proviamo. Per uno. Ce l'ho fatta. Cosa succederà? La nicchia alle sue piume. Ok, l'abbiamo allontanata, ma penso che se ci avviciniamo, c'ha il gucciolo, sicuramente ci ammazza dopo. Diciamo che forse per il momento è meglio che ce ne andiamo, va. Allora signori, qui si potrebbe prendere come compagno quel piccoletto che è il gucciolo del grifone. Per riuscire a farlo, ora dobbiamo praticamente andare via. Andare nell'accampamento... No, non andare nell'accampamento. Cosa stai facendo? Dio, se mi faceva tigre attirare il mostro, ti lasciavo lì a morire. Te lo dico subito. Non me ne frega niente. Poi te ne evocavo un altro. E praticamente dobbiamo andare via da qua adesso. Dormire. Quando dormi, il giorno dopo, vedi, rientri nella grotta e vedi il macello che è successo. In poche parole hanno ucciso la madre, i goblin hanno ucciso la madre e hanno preso il cucciolo e lo portano nell'accampamento. Quindi lo troverai poi nell'accampamento dei goblin che potrai salvarlo tramite un giochietto che farai all'interno dell'accampamento con degli altri goblin che se vincerai la sfida potrai averlo come compagno. E quindi poi lo mandi direttamente all'accampamento e lo tieni lì. È un animaletto. Se non mi sbaglio più avanti nel gioco ci sono delle interazioni con lui quindi avere un compagno in più non è per niente male. È comunque un compagno animale quindi deduco perché non l'ho ancora sbloccato del tutto con le mie altre partite che si possa effettivamente evocarlo dopo un po'. Bene signori vi ringrazio di essere rimasti fino a qui. Siamo arrivati fino a questo bel punto. Vi ho spiegato alcune cose interessanti. E nel prossimo episodio andiamo verso l'accampamento dei goblin. Quindi ci saranno delle belle cose che succederanno. Come vi ho già detto l'accampamento dei goblin verrà raso totalmente a suolo. Cercherò di far fuori tutti i goblin possibili e di salvare Helsin se lo riusciamo a trovare. E innanzitutto voglio scoprire che cos'era quell'albero nella palude. Quindi vediamo se riusciamo a trovare una qualche palude da qualche parte e vedere che cos'è quell'albero per mettere caga un po' di caga. Vi ringrazio alla prossima. Ciao!